mi dici? Eh? Eh? Lezioni, sono lezioni, lezioni. Lezioni? Cos'era la prima? Ripeti la prima lezione. Eh, non mi ricordo. Studiare! Studiare? Sì, ma bisogna che non so visto ancora studiare. I love you. I love you. Seconda lezione, teorica e pratica. Te lo ricordi? Beautiful! No! Kiss me! Ah, certo! Come si dà? Mamma mia! Kiss me! Repeat? Repeat? Kiss... Kiss me! Kiss me! Passare? He pratica. Ho, 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 ho... 3rd English Lesson 3rd English Lesson 3rd English Lesson Oh beautiful! Dimmi la traduzione Di cosa? Oh beautiful! Meraviglioso! Che bello! Che bello? Che bello! Vuol dire che meraviglioso Oh beautiful non è meraviglioso No! Amore! Che bello! Ah, allora non posso dire adesso niente Oh beautiful! What did you say? Oh beautiful! Grande! Che bello! 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 Che bello!